la firma mi piace grossa su tutte le foto e fa schifo sì certo e mi rubano le foto oh la fai finita chi ti irredidesse picasso cala cala me lo dai un motivo palido per cui non dovrei mettere la firma fa schifo o me ne frega niente ho letto un manuale dove c'era scritto che la firma si mette perché sennò te le rubano il mio g non la mette e gli hanno rubato due foto solo perché lo fai di lavoro da anni ti dovrei ascoltare ce la mette bella grande benissimo allora c'è il volume altissimo e tra l'altro non so perché mi era andato anche in muto il microfono quindi abbassiamo subito il gain del microfono e ora penso che mi sentiate spero no ok grazie innanzitutto a pietra giovanni pastore che ma detto non sento l'audio giustamente saluto tutti salvo di vento ciao carissimo ciao giovanni ciao salvo ciao gianni gracci che tra l'altro è un mio che è un paesano empolese mi fa piacere lulù e laura filippo e tutti quelli che sono qua per ora quindi non avete sentito un bel tubo di quello che ho detto prima va bene non ho detto niente di esorbitante se non che vi volevo mettere al corrente che ci sarà una nuova rubrica che partirà partirà a breve parleremo di sarà non non me ne occuperò io se ne occuperà alan ray wilmet e poi più avanti vi spiegherò meglio è una rubrica dedicata alla tecnica fotografica ciao fotografo sono riuscito tra l'altro col telefono a collegarmi alla diretta quindi posso anche vedere chi chi e cosa scrivete e questo mi fa piacere quindi diciamo che possiamo mi sentite bene no adesso mi sembra che l'audio stia entrando bene quindi possiamo iniziare con la nostra consueta roulette partiamo subito allora vediamo un po' cosa c'è di bello in giro allora francesco davide salsano con la z anni fa feci questa foto con il mio lgg4 non aveva ancora la mia attrezzatura fotografica mi divertiva a studiare tagli e luce e composizione con ciò che avevo a disposizione chiaramente quando si ha un cellulare o comunque un'attrezzatura un po' limitata cominciare a lavorare sulla composizione e sulle luci e sui tagli è molto importante perché appunto non potendo poi andare a lavorare su tutta quella che è una parte tecnica che poi chi ha in mano una reflex una mirrorless può andare a gestire diaframmi tempi eccetera eccetera allora potete già cominciare a concentrare su tutto un mondo che c'è da sviluppare e c'è da da migliorare ah ok devo mettere il test desktop e così vedete anche vedete anche le foto nei messaggi adesso dovreste vedere tutto ogni tanto capitano dei bug strani tipo che mi si è chiusa la finestra vado a sistemare e così ok dovreste vedere quello che vedo io insomma ecco perso anche il lavoro di segretario scrive Andrea scusami Andrea almeno te ho tolto un peso dai grande allora appunto dicevo che concentrarsi sulla composizione concentrarsi su tutto quello che è la parte di composizione di luce è già un mondo in cui potete perderci tantissimo tantissimo tempo poi quando avrete attrezzatura migliore potete andare avanti mi piaceva tantissimo la riuscita ma oggi scusate lo sfumato lo feci con after focus e la post produzione con snap seed mi piaceva tantissimo la riuscita ma oggi riguardando il tutto mi lascia un po' perplesso mi date parere su questa foto in particolare mi lascia perplesso la composizione del punto di vista rispetto al violinista rispetto al taglio quadrato taglio scelto all'epoca per studio si trovano tante guide su tagli landscape portrait ma su taglio quadrato no allora innanzitutto quello che ti posso dire su questo scatto è che siccome c'è un paesaggio dietro siccome questo violinista sta suonando di fronte a un paesaggio a una finestra il taglio già landscape mi avrebbe incentivato mi avrebbe aiutato a apprezzare lo scatto no perché comunque così mi sento un po' chiuso soprattutto perché c'è un violinista quindi la musica di solito sia si espande e invece qui me la comprimi in questo mondo un po' ristretto quindi questo è una cosa poi chiaramente è un po' l'immagine molto filtrata nel senso che i neri sono molto blu lo sfondo è molto giallo sono scelte estetiche stilistiche che si possono prendere ma bisogna sempre centelinare un po' queste cose perché sennò si rischia di appunto dare sempre un effetto di eccessiva finzione all'immagine andiamo avanti Silvia Baduica scrive buongiorno a tutti sono Silvia e sono fotografa materiale mi sono avvicinata al mondo della fotografia paesaggistica e dei ritratti da poco non posso più farne a meno e se la ride siete tutti fantastici e so che abbiamo tutti fantastici no qualcuno magari però no scherzo siete tutti fantastici e so che abbiamo ancora molta strada a fare buona giornata a tutti pubblica questo scatto di questa donna sul letto dove c'è un gioco di luce dove la luce forte colpisce il letto riverbera sulla modella sulla ragazza e crea questo effetto un po' dal basso diciamo che il gioco di luce c'è il bianco e nero può essere interessante se non che la donna non si capisce cosa fa sta guardando un film mentre si è dimenticata di mettersi i pantaloni sta avuto che ne so un blocco si è incliccata è rimasta rimasta storta e la gamba non riesce più allungarla è una posizione alquanto come dire scopoda sia per la donna non è non è a suo agio quindi francesco scrive grazie per il per il parere figurati francesco è un piacere come vi ripeto io vi dico quello che mi viene in testa mentre vedo vedo gli scatti al volo magari qualche volta dico anche qualche bischerata no però ho poco tempo cerco di dare qualche input veloce voi rispondete mi scrivetemi se avete altre opinioni su rispetto a quello che dico poi chiaramente vanderò a leggere anche i commenti degli utenti ognuno è giusto che dia la propria quello che mi preme sempre dire questo gruppo per chi sta iniziando è per chi vuole migliorarsi ed è secondo me è il posto giusto per per i anche professionisti e gli esperti perché se loro hanno intenzione di star qua a dare una mano agli altri chiaramente non avranno niente in cambio avranno però la stima e contribuiranno alla stima di chi aiuteranno contribuiranno sicuramente a migliorare un po il mondo della fotografia attuale che purtroppo in questi ultimi anni con l'avvento dei social e con l'avvento dei cellulari con l'avvento di una serie di dinamiche che fanno che permettono un po a tutti di scattare quindi tutto hanno la possibilità di scattare ma a molti manca la grammatica a molti manca la aver studiato aver studiato aver averla provato a scattare per anni e quindi il compito secondo me di chi adesso conosce la fotografia è anche quello di sforzarsi di dare una mano alle persone che ancora non sono in grado di produrre immagini degne decenti vediamo cosa scrivo buongiorno a tutti ciao pietro forleo ciao carissimo giuseppe filippelli mitico ciao buongiorno ciao claudio grazie di tutto e di tutto e del gruppo dice francesco da ma figurate grazie a voi che siete qua con me e andiamo avanti a vedere un po di immaginette ah questa è bella questa l'avevo già vista alessandro scipioni posta e scrive vi ho ringraziato di avermi accettato nel gruppo già con un semplice post ma adesso vi voglio presentare al gruppo mi voglio presentare al gruppo il mio settore principale è la food photography ho avuto esperienze con ristoranti stellati e chef internazionali se qualcuno fosse interessato per delle domande su questo mondo sono a disposizione premetto che su questo genere di foto non uso photoshop tranne per elevare eventuali bricele sul fondo e cavolatine del genere mi piace creare con la luce infatti agli chef dico sempre se il piatto è una frittella rimane una frittella io non posso trasformare in una bella bistecca al sangue e questo è innanzitutto una bellissimo un bellissimo scatto lo andiamo a ingrandire e a vedere meglio poi quello che mi fa piacere quello che mi fa piacere di questo post di alessandro che innanzitutto posta uno scatto interessante e quando uno scatto interessante già di per sé ti dà degli spunti degli spunti creativi estetici ok guardate i colori guardate la combinazione dei colori tra di loro il viola con il verde niente a caso le posizioni della composizione è fatta in un certo modo la preparazione del piatto in sé già è perfetta il punto di vista sono una serie di cose che funzionano molto bene quindi alessandro poi chiaramente dice una cosa che vale anche per noi lui dice allo chef il piatto se è una frittella resta una frittella e questo vale anche per noi e in tutti i contesti non solo nella fotografia di food se una donna che fotografate vestita a cavolo se i colori dei vestiti non sono combinati se il trucco i capelli non hanno non so non si sposano con tutto il resto la foto farà schifo potete far mettere la luce più bella che volete potete avere la donna più bella del mondo però tutti gli elementi che troverete nel quadro sono fondamentali ancora prima di lavorare sulla luce che spesso noi fotografia scrivere con la luce quindi la luce è fondamentale conoscerla interpretarla e saperla gestire però prima ancora della luce pensate a quello che rimane all'interno del quadro tutto quello che all'interno del quadro deve essere armonico e deve funzionare dopodiché andiamo a illuminare allora Sergio buongiorno a tutti ciao Claudio buona domenica ciao Sergio di Carluccio ciao caro di Napoli andiamo avanti vediamo un po' qua perché mi si è chiusa la finestra ogni volta ragazzi sembra facile però ogni volta devi sempre impazzire dietro a qualche bug qualche cosa particolare che succede per esempio qua ora non mi fa vedere va bene allora proviamo a chiudere un attimo qua e riaprire ok poi Alessandro dice un'altra cosa interessante che quello che dicevo prima se avete bisogno di supporto chiedete cioè perché questo gruppo esiste per quello non è una galleria di immagini dove ci si fa ci si dà le pacche sulle spalle a vicenda non non servirebbe a niente no cerchiamo un attimo di supportare gli altri dare una mano darsi una mano non vuol dire che quello che appena iniziato non deve dire la sua assolutamente no anzi deve 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 dire la sua chiaramente deve sapere che avendo molta meno esperienza magari di altri è meglio che magari colga qualche informazione piuttosto che darla in questa fase poi più avanti si vedrà Cristina Masoni la grandissima Cristina che è bravissima sul bianco e nero posta questa immagine questo scatto dove c'è questo contatto probabilmente fra due ballerini in un momento dove c'è lo scambio dove c'è la giravolta non lo so comunque mi dà questa sensazione qua di movimento mi piace forse la mano di lei in questo momento qua rispetto altri scatti che ho visto di Cristina dove la mano un pochino mi piaceva molto di più perché era più in più in linea con con la drammaticità dello scatto in questa in questa foto qua avrei preferito fosse un pochino più elegante però lo scatto è un bellissimo bellissimo scatto bellissima luce andiamo avanti Ignazio Auccello ciao grazie di avermi accettato figurati Ignazio è un piacere benvenuto salve a tutti di scrive Francesco Davide Salsano mi presento mi occorre un consiglio voglia voglia acquistare una lente luminosa cosa accorta beh consigli tecnici qui ci sono già delle risposte chi è interessato a lenti o argomenti di questo tipo andrà a vedere direttamente vi vi dico qua vi ripeto che più avanti avremo una rubrica dedicata alla tecnica fotografica se ne occuperà Alan Ray Wilmette che è il moderatore del gruppo poi vi racconterò un po' chi è Alan farò un video dedicato e vi spiegherò un po' dove andremo con questa rubrica Antonio Amica posta questo scatto un paesaggio poco da dire su un paesaggio del genere nel senso che come vi dico spesso quando fa scattato un paesaggio o è un paesaggio che quando lo vedi ti cadono gli occhi perché è stupendo oppure ci deve succedere qualcosa all'interno qui non succede nulla ci sono se non che qualche giochetto di luce però Antonio non è sufficientemente interessante per poterti dare poi dei consigli ulteriori ma posta qualcos'altro andiamo avanti Michele Sassanelli posta donna con l'ombrello porticato a chiesa San Pio di Giovanni Rotondo Fujifilm X70 18 mm quindi un grand'angolo bello spinto quasi un fisciai possiamo dire è una bella prospettiva una bella prospettiva dove la fuga è nel punto giusto dove si percepisce una forte dinamicità nonostante la staticità dello scatto la donna che va là è interessante forse mi sarebbe piaciuto averla un pochino più vicina a questo punto al fotografo un pochino più avanti per averla un po' più presente diciamo però nell'insieme un bellissimo bianco e nero vediamo anche i commenti perché andiamo a vedere un po' cosa scrivono gli altri ok Cristina è fice scrive questa è sublime perfetta la donna che cammina nell'ombra ti ringrazio sei gentilissima scrive Michele mi inchino a questo scatto la prospettiva la profondità e il controllo della luce scrive Valentini Renato e delle ombre che restano leggibili mi piace molto ti ringrazio tantissimo Renato eccetera eccetera bella davvero scrive Antonello grazie già mi distra mette una mano così che non si capisce cosa voglia dire ecco magari forse non ho letto qualcosa prima no magari astenetevi a a scrivere dei commenti che non hanno senso tipo questo forse che voleva dire non mi dice nulla se non ti dice nulla scrivi magari guarda non mi dice niente questo scatto ritengo che commenta qualcosa di costruttivo no Enrico Piccarello scrive molto molto bella non c'è nulla da aggiungere e quanto già detto ti ringrazio scrive Michele andiamo avanti Paco Conti allora vediamo se è arrivato qualche messaggio Angela Piaggesi ci saluta ciao Angela Paco Conti ciao a tutti sono un fotomotore mi diletto soprattutto nella fotografia sportiva spero di affinare la tecnica e trovare nuove ispirazioni in questo gruppo sei nel posto giusto affinirai la tecnica ci saranno ispirazioni da parte di tutti penso Paco forse questo potrebbe essere tuo figlio non lo so vi ricordo sempre che quando postate immagini di bambini o siete i genitori o avete la liberatoria firmata questo è importante scattato con un Tamron e una Canon 4000D è un buon momento magari bisognava migliorare il punto di vista cercare di dargli un po' più di dinamicità però l'attimo c'è Antonio Amica un tramonto prima di dire su città di Coligliano rispetto a quello di prima lo preferisco perché comunque almeno qui c'è qualcosa del contesto del paesaggio che mi fa mi attiva un po' di fantasia queste case il furgone sulla destra che si vede appena qualcosina qualcosina c'è un po' meglio Matteo Giordano posta questo bel bianco e nero dove c'è un contrasto netto tra i neri e i bianchi e poi ci sono anche i grigi però è strutturata bene l'immagine in questo senso dal punto di vista del contrasto scrive sabbia e perdita d'occhio tra le ultime colline il mare il mare nell'aria fredda di un pomeriggio quasi passato e benedetto dal vento che sempre soffia da nord la spiaggia e il mare potrebbe essere la prefazione scusate potrebbe essere la perfezione immagine per occhi divini mondo che accade basta il mutuo esistere di acqua e terra opera finita ed esatta verità verità ma ancora una volta al salvifico granello dell'uomo che inceppa il meccanismo di quel paradiso un'inezia che basta da sola a sospendere tutto il grande apparato di inesorabile verità una cosa da una cosa da nulla ma piantata nella sabbia impercettibile strappo nella superficie di quella santa icona minuscola eccezione posatasi sulla perfezione della spiaggia sterminata a vederlo da lontano non sarebbe che un punto nero nel nulla il niente di un uomo e di un cavalletto da pittore oceano mare alessandro baricco e posta è bello no anche avere piuttosto che scrivere delle volte vedo delle foto dove uno posta tramonto e scrive tramonto oppure fa una foto del giardino e scrive il mio giardino cioè io mi ricordo un professore di regia che mi diceva sempre se tu realizzi un video con l'audio non dire la stessa cosa che dici con il video magari racconta qualcos'altro no così arrivano 22 informazioni diverse spesso sono diventano armoniche tra di loro e credo un tre una terza un terzo contesto un terzo un terzo significato e diventa interessante no e lo stesso succede così una foto abbinata a un pezzo di un libro oppure una poesia oppure semplicemente un racconto vostro ancora più apprezzati sono i racconti del dietro le quinte delle vostre foto perché se raccontate qualcosa che gira intorno allo scatto chi lo vede può capire molto meglio il contesto e può imparare ancora meglio ciao leone ciao carissimo buongiorno Andrea Andrea posta il suo autorità aspettando la roulette russa vi osservo tutti autorità sì ci osservi in effetti autorità in un momento di noia posta al suo bel faccione vedete che bell'uomo nonostante l'età ancora si si conserva bene guardate lui scatta sicuramente un diaframma apertissimo vediamo un 1.2 vedete lo stacco bam profondità di campo dettaglio sul volto e il dettaglio finisce subito subito si va fuori fuoco in questi in queste parti grande Andrea andiamo avanti qui si vede la diretta che rimbalza buongiorno a tutti questo è il mio video che ho postato se vi interessa sapere ho postato oggi che è la continuazione del video andiamo a vedere i commenti che hanno scritto grazie ciao a tutti fotografi eccetera eccetera visualizzato il commento ciao fotografi Claudio grazie benvenuto ciao ragazzi questo video cos'è è un ho fatto due video questo qui è il secondo il primo l'ho postato la scorsa settimana e vi racconto come attraverso una lampadina si possa riuscire con pochissimi mezzi in casa a illuminare solo con una lampadina un un'auto un modellino di un'auto e poi nel secondo video vi spiego come andarlo a inserire all'interno di un paesaggio e dare una percezione semirealistica diciamo Filippo mio carissimo amico posta questo scatto non è un fotografo si diletta posta questo paesaggio della Toscana con questi cipressi questi tagli di colori verde azzurro poi c'è il marrone del sono sono livelli diversi l'approccio l'idea giusta la realizzazione non è quando si fa questo gioco di colori dobbiamo ancora spingere ancora di più con andando a trovare dei livelli interessanti però la composizione c'è questo l'abbiamo già visto andiamo a tra le pietro forleo scrive sera fotografi volevo presentarvi in una Venezia a modo mio una Venezia a modo via ossia degli scatti insoliti di quella città tanto visitata ed immortalata in milioni di fotografie volevo vederla anche da altri punti di vista non solo gondole non solo carnevale eccetera o per le meno entrare di più nel particolare da qui sono nate le fotografie un po' inusuali questa questa è una minima parte di quelle che ho realizzato e mi piaceva l'idea di condividerle con voi ok allora andiamo a vedere un po' di scatti velocemente ci metto un po' a caricare perché qui sono in toscana la connessione è un po' lentina devo dire e quindi c'è i suoi tempi ok è arrivato ok facciamo una un giro se ce lo permette perché mi sembra un po' lentino oggi sì 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 un po' troppo lento vabbè dai non ok sono dei dettagli pietro dettagli un po' confusionari non so hai scelto di dare un taglio diciamo quasi scomposto quasi come se fossi un come se avessi scegliere di mixare diverse cose in modo un po' probabilmente volutamente disordinato no è una scelta il risultato in alcuni casi interessante in altri meno se si approccia una scelta di questo tipo è un lavoro molto complesso perché comunque richiede nel racconto un'armonia forte almeno quello che mi sembra aver colto almeno che hai scelto proprio di andare a prendere dei particolari dei dettagli in giro mixandoli cercando di sviluppare un racconto diverso assolutamente l'idea c'è l'idea è interessante lo sviluppo meno perché appunto è molto difficile fare questo lavoro qua perché chi le vede in modo superficiale magari ha un occhio superficiale gli possono sembrare degli scatti che non sono stati pensati no allora per evitare questo questo questa sensazione è necessario che siano più difficile dirlo più sia più incisivo questo messaggio no e non so come però è necessario andiamo avanti cristina masoni queste le abbiamo viste l'altra volta molto belle questo è un bidettino avevo fatto io maurizio saltini posta questo fiore andiamo a ingrandirlo allora queste immagini queste si vede in i pistilla cioè maurizio posta sempre delle bellissime foto forse questa di sfiga è quella che è un po mi piace meno però guardatevi le foto di maurizio perché fa veramente dei macro proprio belli da vedere giovanni stotto è qui sempre un po di polemica con giovanni perché posta una foto una salvatore antonella gli scrivono un commento abbastanza semplice tranquillo lui perde le staffe come sempre come ripeto giovanni se non non sai mantenere una conversazione normale non è il posto per te quindi io non ti butterò fuori perché non perché comunque non sei mai stato né volgare né maleducato però comunque sicuramente fuori contesto claudio arnese ciao a tutti sono di legnano e mi occupo di fotografia stock e commerciale ciao claudio claudia soffì soffì e claudia soffì soffì claudia soffì come si legge non lo so ciao a tutti sto facendo il percorso inverso dal digitale vorrei provare l'analogico cosa mi consigliate tra e scrive una cosa interessante poi andate per vedere i consigli per chi è interessato a questo genere di consigli allora francesco scrive ciao claudio complimenti bellissima idea questa del live sulle foto francesco grazie a te io cerco di fare di darvi un qualche dritta qualche qualche der mi viene in mente poi magari qualcosa interessante altre altre cose sono meno interessanti gianni la muraglia scrive buonasera dovrei se me lo permettono a fare le foto alla cresima della mia principessa tra il 50 1,1 e 8 e l'11 16 che è un gran angolo volare molto spinto 28 cosa mi consigliate sono in possesso anche di un flash esterno dovrei utilizzarlo grazie per intuare risposta a vedere cosa gli consigliano perché questi comunque sono comunque consigli tecnici interessanti potremmo anche pensare di affrontarli poi nella rubrica regata collegata alla tecnica allora non sono dice mario festa un professionista ma direi che forse l'11 16 troppo grandangolare è un'opinione in effetti sai io ritengo che sia difficile scegliere un'ottica specifica probabilmente averle entrambe importante chiaramente in certi casi non puoi non puoi gestire due ottiche quindi dire to cure così qual è la l'ottica migliore è difficile secondo me non c'è un'ottica migliore però c'è un'ottica giusta per ogni momento specifico francesco scrive se scatti e voi direte se questo si sa chiaramente lo sanno tutti però è bene dirlo perché magari qualcuno che sta iniziando non spesso vedo la domanda qual è l'ottica migliore per farla moda la moda e bisogna utilizzarle tutte le ottiche a seconda di quello che mi serve se scatti con una full frame il 50 è perfetto altrimenti con una ps scilla 11 16 va bene perché poi chiaramente più piccolo il fotogramma e quindi l'immagine si ritaglia di 5300 francesco zannoni scrive il formato del sensore leggermente più grande di una psc quindi il 50 diventa poco meno di un 80 un po troppo stretto se comunque sei lontano va bene se invece puoi avvicinarti ti consiglio un 11 16 le foto saranno più particolari ognuno ha la sua opinione ognuno ha la sua modalità di affrontare questo genere di lavoro no non mi ricordo un battesimo una cresima non mi ricordo come mi spieghi il fatto che la messa a fuoco seppure in automatico non è sempre nitida sbaglio impostazioni e qui c'è qualche problema già nella muraglia probabilmente apri un po troppo il diaframma può essere che sia un problema di profondità di campo di campo appunto scrive diventa molto piccolo in automatico se punta male rischia di farvi di farti venire con certe zone fuori fuoco se la profondità aprite molto diaframma diaframma sono dentro diaframma 11 diaframma 8 questa è la profondità di campo e diaframma 11 diaframma 8 diaframma 5 6 diaframma 4 2 8 più stringere più aprite il diaframma e più la profondità di campo si riduce la profondità di campo questo spazio è la distanza che c'è al primo punto di messa a fuoco dell'immagine e l'ultimo punto messa a fuoco di un'immagine quindi se si riduce c'è pochissimo fuoco e se tu metti a fuoco il naso può essere che l'occhio fuori fuoco se la profondità di campo è poca quindi andiamo avanti quindi generalmente non dovrei andare al di sotto del 5 6 con il diaframma altri consigli cose varie andatevele a legge ci sono un sacco di commenti interessanti ci sono commenti intelligenti commenti meno intelligenti andate poi a valutare a fare un poco il calcolo alberto corrigliano scrive non so se possano piacere questo genere di foto si accettano pareri milano pentax non è che possano piacere alberto tu devi portare quello che ti piace quello che ti dà qualche stimolo quello che dici ok questo è uno scatto che mi piace quello che vi dico sempre non postate la qualsiasi fate una selezione degli scatti interessanti che avete non postate le cagate che che non piacciono neanche a voi se no non ci siamo in questo caso lui dice non so se posso possono piacere deve innanzitutto piacere a te dopodiché noi ti diamo qualche consiglio e si va avanti qui c'è un milano lo scalain di milano nella parte di garibaldi fotografato dalle google credo dalle guglie del duomo attraverso questa grata c'è un po di confusione ti posso dire c'è una retinatura qua che si vede che non capisco se è una rete che avevi davanti o se è un effetto non si capisce tipo sembra quasi che fotografato tipo il monitor anche per la per come è virata l'immagine non si capisce cos'è sì c'è un po di confusione andiamo a vedere cosa cosa scrive michelangelo nei commenti bella però cerca di centrare il tutto per bene così sarà più gradevole all'occhio scrive alberto sulle terrazze la cosa era un quanto complicata tra guglie gente presente cercato di centrare la skyline con questa finestra lo scala in questa finestrella per quanto mi sia possibile lo so è sempre fa non è sempre facile ok maria teresa scrive buonasera scusate per la domanda forse un po troppo banale ma ho bisogno di chiarimenti perché non riusciamo a capire chi tra me e un mio amico abbia ragione vabbè vediamo più alto è liso e più è luminosa la foto o più è più scura grazie mille se rispondete maria teresa qui siamo proprio alle basi chiaramente queste cose dovete assolutamente andare a impararvele inculcarvele nella testa perché se non conoscete queste queste dinamiche qua siete anche qua per questo per imparare queste cose qua però la parte tecnica come dico sempre il pittore se non ti sa tenere in mani il pinnello difficilmente potrà fare un granché quindi più alte sono le iso e più chiaramente la foto è luminosa però più anche grana ci sarà sulle immagini quindi dovete sempre giocare diaframmi tempi e iso in modo giusto massimiliano scrive bastava vediamo un po di commenti va perché questo qui voglio voglio capire cosa se la gente mantiene anche la calma allora iso alti foto più luminosa ok e stefano risponde diciamo a tema stefano scrive gli iso sono inversamente proporzionale luminosità esterna esatto come in che senso di iso sono in vero inversamente proporzionale alla luminosità eterna più alta luminosità e più li devi abbassare nessuno dei due gli iso indicano la sensibilità della pellicola isoati non vogliono necessariamente indicare una foto luminosa sì quello è vero sì ok così andiamo andiamo a complicare ancora più il discorso per essere più veloci per capirci insomma esatto ma per spiegarlo come si deve bisogna partire la preistoria quindi per tagliare la testa al toro iso alti foto più luminosa esatto questa è una domanda da preistoria scrive antonello però sono domande che in questo gruppo si possono fare e si devono fare perché se avete dei dubbi non vi preoccupate non vi vergognate di fare domande perché chiunque ha iniziato non sapeva un cazzo degli iso e quindi come dico sempre chi vedete che fa il fenomeno vi tratta modo saccente anche lui quando ha iniziato era una seghettina a fare le foto poi tra parentesi chi scrive su facebook spesso non è dobbiamo vedere poi se è in grado di fare quello che dice in effetti però tutti hanno le nozioni io forse avrei consultato google scrive stefano no google non è il posto adatto perché purtroppo cioè sì è un posto adatto nel senso che poi tranne un sacco di informazioni va benissimo andare su google a cercare informazioni va benissimo ma soprattutto questo è il posto adatto perché questo un gruppo di fotografia non è mica un male che sia una domanda da presto era c'è gente che sta qui per imparare ed è giusto che chissà possa aiutare gli altri a crescere antonello ha capito benissimo lo speri lo spirito del gruppo e chiaramente si piglia i like quando aumenti gli iso rende il sensore più sensibile alla luce quindi a parità di tutte le altre condizioni di tempo diaframma luce esterna è una foto più luminosa benissimo bravissimo almeno faccio sapere chi aveva ragione chi ve leone le donne hanno sempre ragione schiva leone ok altri commenti tanti commenti anche a degli aiuti più concreti tramite tabelle eccetera eccetera salvo romeo posto a uno scatto che subito così mi rimanda al mondo allora veniamo un po cosa cosa scrive michele petro scrive grazie per il consiglio claudio prossimo giro starò più attento no ma guarda ti dico secondo me ai pietro hai scelto una c'è ti sei preso una bella cagata da pelare nel senso che l'approccio è interessantissimo il risultato finale è difficile portarlo a casa ma veramente difficile perché comunque quello è un secondo me è un raccontare una cosa del genere complesso salvo scrive troppo confusione non salvo mi scrive sempre dei messaggi criptici fantastico non ho capito cosa vuol dire spiega ma lo salvo dopo se se puoi michele scrive molte volte molte volte si confonde lo sfocato con il micro mosso esatto questo michele è vero chi soprattutto all'inizio confonde ma anche c'è questo non solo che all'inizio alcuni miei clienti in passato hanno confuso lo sfocato con micro mosso magari volutamente ho fatto dei micro mosso dei mossi artistici creativi sfocata l'immagine no non è sfocata non è così che spiega è sì purtroppo sì soprattutto quando c'è il micro mosso che abbiamo scattato un tempo troppo lento e c'è la percezione del piccolo movimento sembra potrebbe sembrare una lieve sfocatura no e quindi alcuni sbagliano la messa a fuoco che deve essere sul punto col micro mosso che è un'altra cosa delle volte quando faccio le foto di selfie no quando sono nei gruppi fanno un selfie no la gente facciamo un selfie io mi metto lì e mi muovo veloce mentre fanno un selfie no e il risultato è che io vengo l'unico mosso nell'immagine ma sei venuto mosso eh sì ho detto ma è strano vengo sempre mosso questa cosa faccio io salvo scrive cioè posta questa immagine che mi rimanda subito al mondo del cinema no vertigo di hitchcock se sempre nei film interessanti c'è sempre una scala che si vede dall'alto con questa chiocciola che scende no ed è sempre un'immagine che ti rimanda cioè ne hai viste mille ma comunque ognuno diversa perché le scale sono diverse perché i punti di vista sono diversi quindi è sempre interessante vederle quindi questo è un buon bianco nero sicuramente non spicca di originalità però è un buon bianco nero una buona composizione chiaramente se ti devo dire cosa mi racconta questa immagine poco però però c'è la composizione quindi scrive salvo mi piacerebbe avere un vostro parere su questa foto non so se è orribile pure potrebbe piacere no non è orribile assolutamente è un una foto che si ripete spesso nel tempo non è un brutto scatto assolutamente però allora vediamo i commenti che arrivano qua su questo scatto perché mi interessa capire anche cosa pensate voi degli scatti che ci sono qua perché quello che penso io lo so giuseppe per milotta scrive mi piace l'avere ruotata di 90 gradi e spostata un pochino sul terzo di destra o sinistra non so se mi sono spiegato quindi l'avrebbe girata di 90 gradi e quindi la fuga della prospettiva spostata un po sul terzo di destra ok questo è quello che aveva fatto giuseppe certo grazie per il commento parere mio scrive ok io avrei aspettato passasse una persona altra soluzione quando una foto succede poco bisogna avere pazienza se avete trovato il punto di vista link il campo giusto l'inquadratura giusta aspettate che succede qualcosa ci sono fotografi che sono morti assiderati o di vecchiaia aspettando che succedesse qualcosa però comunque è una soluzione mi piace anche il vero spettacolo sa mi piace scrive cristina e fish e mi piace anche una scelta della cromia come giulio avrei aspettato anch'io il passaggio una persona la scelta cromia è bianco e nero quindi gli piace che si che è anche uno scatto in bianco e nero grazie bianco e nero no sì bianco e nero allora grazie ok antonella frazzita scrive mi ricorda un film degli anni 50 con aldo fabrizi ha ragione perché nei film spesso spesso i registi sono attratti dal vuoto e quindi soprattutto quando ci sono le scale a chioccio da sotto a me piace molto scrive me for me photo art alfio vivona scrive a me piace così paolo ragnoli di che piace questa immagine perché è un immagine che spesso che abbiamo un po nel nostro immaginario no paolo ragnoli scrive ma è bella grazie scrive salvo è una bomba che pensi sia orribile scrive victor a vita piace molto e grazie ok perfetto riscosso successo luisa arte geniale posta un po di scatti andiamo a vedere cosa scrive buonasera a tutti anch'io sono una nuova in questo gruppo sono in questo gruppo e come voi amo fotografare da una vita ma purtroppo non posso dedicarle molto tempo questo è un po il problema di tanti ho ricominciato a prendere la macchina da settembre dopo sei anni di inutilizzo deciso di ricominciare grazie al mio compagno che ama fotografare molto più di me sono un anima e un corpo vedi bello che siete due amanti della fotografia e poi anche perché ho dimenticato persino come funziona la mia macchina e questo ci sta perché se tu allora se hai fatto fotografo per anni non ti dimenticherà mai come andando in bicicletta però se per un periodo hai fotografato ha imparato un po di tecniche poi lasci la fotografia per un periodo lungo poi dopo è difficile tornare deve ricominciare un po da capo e poi anche perché ho dimenticato persino come funziona la mia macchina bene dopo questa lunghissima presentazione mi dispiace per voi vi posto qualche foto o vi raccomando non saprete non sparate o vi raccomando non sparate dritto al cuore le gambe vanno bene le gambe vanno bene cioè non gli sparata al cuore parata le gambe voleva dire sono io con la tema che ho letto male ok qui c'è un un pazzo furioso vestito così una foto molto colorata a lui su tipo sulla vespa non so su anche se fa uno scatto è felicissimo di come conciato questo è un bel bianco e nero è un bomen che nero tutto sto lavoretto non si capisce cos'è una foto vedo tutto intorno tutta questa cornice così scrivimi se dovrebbe essere fatto in post però mi sembra quasi quasi non lo so va bene andiamo avanti vediamo anche questo scatto un dettaglio di questo uomo mascherato avanti davanti 2000 membri siamo già molti di più adesso ragazzi qui cresce il gruppo è il gruppo piace evidentemente stiamo andando nella direzione giusta e probabilmente le persone apprezzano quello che stiamo facendo no ok andiamo avanti michele scrive sassanelli ciao a tutti se mi è permesso vorrei consigliare due libri il primo è fotografia creativa di franco fontana becca cazzo fontana certo leggetevelo un libro scritto con molta semplicità in cui traspare la grande passione del nostro grande maestro autore di paesaggio incantevoli inoltre interessante gli esercizi che propone a tutti i neofiti e professionisti sulla ricerca del proprio linguaggio fotografico secondo le regole del caso di willy ronis un libro interessante oltre per le fotografie dell'autore ma per i processi mentali che descrive che lo hanno portato a scattare quelle immagini quindi ci dà la possibilità di entrare nella mente di un fotografo che e che fotografo tra l'altro spero di aver fatto cosa cosa gradita in quanto credo fermamente questa nostra passione abbia alla base la cultura e la condivisione hai fatto cosa graditissima è assolutamente necessario che se avete degli input interessanti per chiunque all'interno del gruppo condividetevi soprattutto libri soprattutto video soprattutto qualsiasi cosa che è per noi di aiuto questi sono i libri di minironis ok avanti chiara di sarno ciao volevo chiedere un consiglio quando fate un viaggio che obiettivi portate e qui si apre un mondo che si apre un mondo ragazze a vedere questa cosa qua ma sono curioso di vedere anche cosa scrivono cosa scrivete perché sempre lì che un viaggio ma cosa devi fotografare siamo sempre lì ciao chiara io generalmente porto un obiettivo fisso 24 millimetri 35 milioni apsc leggero versate le comodo quindi prende la stessa immagini si stringe un po sicuramente 35 millimetri parlo di sensori a pesce simili trovo benissimo per lo zoom dipende dove si va quindi reportage quindi landscape paesaggi cosa del genere salvo di vento scrive che a un 18 200 si portano 18 200 copre la maggior parte le focali ma anche un 18 21 12 24 sigma più porta tanta roba salvo poi il pino silvestre scrive io fotografo aerei perciò se viaggio mi porto sempre un sigma 50 500 con quello sta tranquillo uno zoom attilio carnevale tutti poi tutti poi uso il 35 tutto e poi chiaramente come spesso succede se ne usa uno giustamente esatto gianluca scrive un 40 30 come vedete a seconda poi di uno cosa va a scattare usa aurelia scrive il gruppo piace complimenti grazie aurelia è un caro saluto aurelia tirelli samuel di base un 24 105 gianluca scrive di un 40 più 35 millimetri samuel di base un 24 105 35 come vedete non c'è la risposta sola ragazzi cioè dipende cosa volete scattare e dipende qual è il vostro obiettivo preferito il 70 200 lo lascio a casa tranquillo perché spesso poi poi pesano non è che puoi portare qualsiasi cosa dipende poi che tipo di viaggi fai l'altro giorno ho fatto una diretta per la rubrica foto chiacchiere con ugo panella che un foto giornalista e quando parlavo di obiettivi raccontava un po che chiaramente non è che ti puoi sempre portare tutto lui chiaramente si porta mi sembra tre obiettivi due zoom un fisso tendenzialmente però guardando le sue po le sue foto poi di tutte quelle che abbiamo visto durante la diretta di due ore tra l'altro una bella diretta andata bene a vederla perché se vi piace il fotogiornalismo ma comunque se vi amate la fotografia sono due ore molto molto interessanti con ugo quello che si capisce dalle sue foto che usa molto di più un grandangolo quindi all'incirco un 35 cioè alla fine della maggior parte del lavoro però poi chiaramente se c'è la foto interessante dove devi andare a prendere qualcosa è lontano 35 ti trovi un po spiazzato e non porti a casa il risultato questo è un po un peccato quindi va beh tanti consigli tante cose da andare a leggere con calma quando volete noi andiamo avanti con la nostra diretta con la nostra rulletta un freddo e grave all lei alleluia un freddo e grave alleluia gerusalemme primo marzo 2019 scattata con 5 diaframma un centesimo quindi un po al limite del mosso iso 200 allora cosa vedo subito di questa immagine vedo subito che è un buon bianco e nero è una buona composizione se non che un po bassa come altezza è l'uomo è in una buona produzione ed è interessante come lui all'interno di questo contesto quali sono le problematiche massimilane di queste immagini ti dicevo mi sembra un po bassa scenda un po troppo cade un po considerando anche il fatto che lui guarda in terra lui non è preso in una posizione armonica così tanto armonica è un po confuso nel movimento quindi avresti potuto anche migliorare questo scattando magari una raffia oppure magari hai già qualche altro scatto così i contrasti sono belli ma sui neri sei andato a chiudere troppo in certi casi e dai appiattito un po i neri è bello che ci sia questo attenzione bello che c'è questo tasto nero grigio bianco è mi piace molto però sui neri non andata a togliere completamente tutte le informazioni attenzione contraste troppo spinti che sono troppo fuori la realtà questo io vi do delle nozioni ma che poi possono essere assolutamente stravolte ci sono dei bellissimi lavori dove il contrasto è fortissimo sono solo bianchi e solo neri bello però quella è una scelta precisa perché si sta andando in una direzione precisa se vuole andare a raccontare un'immagine attraverso questo gioco di contrasti netto non è una via di mezzo ma è una scelta consapevole la poi cos'altro ai per contrastare hai fatto hai creato un alone in post produzione intorno a questo ragazzo che è percepibile a occhio nudo cioè io vedo questo alone lo vedete questo alone bianco che intorno all'immagine questa cosa qua non mi piace perché è una vignettatura così forte andava gestita un po meglio in modo tale da non avere questo alone che mi rende l'immagine un po finta però tendenzialmente è una bella immagine attenzione è un bello scatto veniamo un po cosa scrive nei commenti massimiliano scrive ho sentito che c'era sempre massimiliano scritto sentito che c'era un accordo musicale segreto che davide su noi che piace al signore ma met posta il testo il testo di una di alleluia raul grande raul scrive bella foto hai scattato tranquillamente a loro generalmente non piace io abitavo nel quartiere ebraico buenos aires se non volevano che la gente li fotografasse perché si sentono come se il fotografo pensasse pensasse che è un circo io ho vissuto tra gli ortodossi ma non li ho mai scattati magari anche per me era normale comunque bel lavoro questi chiaramente quando si scatta delle realtà bisogna anche sempre un po comprendere chi sta scattando avere una certa attenzione no anche di ripreso laura lolli riscrive vediamo un po laura lolli riscrive buongiorno mi lauree sono appassionato e fotografia praticamente da sempre da ragazzina fotografano fotografavo con una vecchia macchina fotografica e soffietto di mio nonno addirittura preferisco la fotografia di architettura borghi città scorci urbane fotografia sportiva principalmente se con mio figlio allo che su prato ma anche molto macchine ginnastica arti marziali tantissima roba scatta laura sono sempre a ricerca di consigli per migliorare perché nostro appassionati appassionarmi ad altri tipi di fotografia d'oro il bianco e nero ma anche non sono soddisfatte risultati sono un po prolissa eccetera eccetera alan scrive ci sono diverse tecniche per ottenere un ottimo bianco e nero se vuoi ti do qualche dritta ma dimmi cosa non ti soddisfa esattamente risultati stampa o schermo alan sarebbe interessante come dicevamo fare già uno spunto creativo raccontare nella prossima rubrica tecnica che si che seguirai tu raccontare appunto questo un po di tecniche per ottenere un bianco e nero in post produzione michele spinapolice era il 1995 la città di senegaglia paese natale di mario giacomelli gli dedicò nella rocca rovesco rovesca una retrospettiva fantastica mi precipitai con anna l'incontro fu pieno di emozioni che non si possono descrivere capisco quasi il derivo dei fan di giovanotti mario giacomelli uno dei più grandi fotografi del mondo era lì a due metri da me stampai due copie e gliele ricapitai tramite un caro amico comune cesare ricci lui me ne restitui una con dedica firma e contro firma in pennarello rigorosamente nero vederlo fu un'apparizione superata in emozione solo alla nascita dei miei figli dario e brando e te credo cavolo cioè sono quelle robe che cioè soprattutto se tu hai fatto una foto a lui e lui l'ha apprezzata andiamo a vederla bene perché sotto è un bello scatto e secondo me è un bel è fatto un bellissimo regalo che ha fatto pure la firma e anche scritto delle cose vediamo vedere cosa ha scritto michele miai vediamo se riesco a leggere mi ha dato una grande emozione per questa tua immagine contro firma con l'altra dopo non riesco a leggere però cavolo bello bella gli hai fatto un bel regalo e lui ti ha restituito un regalo ancora più bello vediamo i commenti di questa immagine vediamo un po allora spettacolo grazie per me condiviso questa con noi avevo scritto io per chi può interessare rattardo pomeriggio bello raccontiamo un po il contesto sulla terrazza della bellissima rocca roveresca fammi vedere anche la foto mentre leggo sulla terrazza della rocca roveresca di senigalli aspettavo con altri ospiti il passaggio di mario giacomelli da quella porta quindi lui si era postato è quasi uno scatto da naturalista questo avevo con me una leica m4 picconi 35 mm 2 sammicron e pellicola hpc 5a scattava in pellicola 400 iso sì certamente impostato a un e 3 un trentesimo f4 e poco dopo e quindi lui ha scelto chiaramente di avere un mosso creativo no è una scelta tecnica piegata alla creatività ne uscì una immagine che lui stesso piacque molto che è un po ricalcava il suo stile cercato di ricalcare il suo stile per raccontare lui che è una scelta assolutamente azzeccata luisa scrive bellissima complimenti scrive matteo un profeta andrea scrive bel racconto grazie queste sono le cose che mi piacciono vedere poi nel gruppo no perché ma come vi dico benissimo che facciamo vedere le nostre foto però se condividete un racconto è ancora più bello no chi a chino zaccarelli ferragnani scrive famiglia lago di garda non so quale scegliere ecco qui è assolutamente la scelta non la puoi delegare la scelta è tua del fotografo e anche quando avrete a che fare con dei clienti di capitale fare con dei clienti non dovete delegare la scelta chiaramente poi dovete scendere a compromessi quello succede può succedere perché quando la gente poi ti paga o sei un fotografo di fama mondiale ti puoi permettere di dire no questa è la foto o la prendi così o non non te la do o non fotografo per te oppure un po di compromesso ci stanno e non è necessariamente un male no perché delle volte noi ci puntiamo delle scelte che magari per il cliente non sono che conosce il prodotto non sono necessariamente perfette quindi anche un po di umiltà nel ascoltare anche gli altri no quindi questa foto e l'altra è questa sono due foto diverse scegli tele te scegli tu quella che ti piace di più anche se qualcuno avrà dato dei consigli sicuramente va bene comunque chiedere consigli soprattutto all'inizio la scelta dell'immagine è molto complicata quello che consiglio sempre come vedete nel video che ho postato oggi quando ho scelto l'immagine della macchina io faccio così per esempio uso bridge per la scelta di photoshop browser di photoshop vado a vedermi tutte le immagini inizio guardando me e comincio a segnare una stella quelle che mi piacciono tutte quelle che mi piacciono ok finito la scelta visualizzo solo quelle da una stella e comincio fra quella una stella a mettere due stelle a quelle che hanno qualcosina in più delle altre ok una volta fatto questo processo vedo tutte le immagini con due stelle le immagini con due stelle già saranno molte meno ok sarà più complicato comincerà a essere un po più complicata andare a selezionare tra queste quella che è meglio dell'altra allora cosa mi consiglio di fare cominciate a prendere le immagini a due stelle che sono simili tra di loro e a vederle a gruppi simili tra di loro quindi ne prendete tre quasi uguali e scegli e andate a togliere la stella no scusate tra le tre quasi uguali andata a mettere tre stelle a quella più interessante delle tre quasi uguali ok e così poi altri gruppi di tre altri gruppi di quattro una volta che avete fatto questo processo vi rimarranno alcune foto da tre stelle fra queste foto da tre stelle c'è da fare una scrematura ulteriore questa scrematura va fatto seguendo un po di motività empatia andando c'è lascia tralasciata un po un po la parte tecnica della scelta comincia essere un po più legato a quello che ti dà la foto tra quelle che ci sono quello che quella che ti colpisce di più e qui siamo alla scelta finale poi sta alla vostra sensibilità no vediamo un po tra i commenti scritto vediamo scrive marco buongiorno a tutti complimenti gruppo mi piace molto perché si parla veramente di fotografia e non dell'attrezzatura esatto allora l'attrezzatura è fondamentale ragazzi è importantissima ma marco c'ha ragione perché l'attrezzatura è come il pennello per il pittore devi conoscere quali sono i pennelli giusti devi sapere che quali sono le sede il pelo che viene usato devi conoscere esattamente quale pennello giusto per fare quello che devi fare devi sapere magari che pennello più grande il pennello più piccolo il pennello cinghiale quello che ti piace di più devi sapere un sacco di cose ma poi in fondo il pennello è solo uno strumento che poi darà darà ti darà la possibilità di utilizzare questo che c'è qua dentro che non è una cosa tecnica ma è una cosa che hai ed è tua ce l'hai solo te andiamo avanti un sacco di commenti allora giulia minolfi ciao a tutti grazie per l'aggiunta sono un appassionato autodidatta scatto già da un po di anni con la mia canon 600 di ho deciso da poco di provare a mettermi in gioco inizierà a condividere con qualcosa di mio con l'intento di migliorare benissimo devi farlo a tal proposito inizierei a chiedervi se conoscere qualche corso vale in zona venezia dove al momento vivo sperando che le foto siano approvate vi auguro una buona serata non so venezia che cosa ci sia dei corsi non so cosa consigliarti poi andiamo a vedere se qualcuno ha consigliato qualcosa però devo dire che i tuoi scatti a venezia aspettiamo un po con questa nebbia hanno un certo fascino mi ricordano un po anche la londra dell'ottocento no devo dire che mi piace mi piace anche come l'hai messa insieme perché sono quattro scatti che vivono bene assieme è un buon racconto delle buone composizioni un buon lavoro sulla luce in generale generale ed è una scelta di momenti che vivono bene insieme quindi giulia grazie delle due scatti adesso devi andare a migliorare sempre di più come dico sempre la firma non serve che la mettiate rovina soprattutto in questo in questi scatti dove la mette proprio al centro rovina la foto penso che la firma sia sempre sbagliata metterla anche se molti di voi so che invece pensano al contrario possono fare chiaramente quello che vogliono nelle foto ma io vi devo dire sempre la mia opinione joseph basilico scrive buongiorno sono joseph grazie per aver accettato la richiesta o il pallino della fotografia da almeno tre anni voglio sempre migliorare tempo permettendo sono appassionato di street photography ma mi muovo volentieri anche gli altri in altri generi come ritratto e la gruppo per crescere al meglio in questa passione lascio in allegato qualche scatto che penso mi rappresenti buono come presentazione perché uno quando si presenta è bello anche vedere qualche scatto cioè un po di scatti diversi di quello che fa abbiamo subito uno scatto con un bel mood devo dire di questa ragazza che sta è uno scatto vedo che i giovani amano molto un po il lifestyle anche 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 il mood è sempre piuttosto ricercato credo credo che sia giovane ora ho detto giovane mamma che non è giovane joseph mi sembra giovane comunque al di là di quello non importa notato che i giovani amano molto il lifestyle che è un po anche quello che viene richiesto molto come advertising pubblicità come ricerca in generale di per quanto riguarda le campagne cioè si cerca molto la verità in questo momento devo dire qui abbiamo uno scatto con un mosso creativo sono degli scatti interessanti diversi bravo joseph anche tu continua a scattare continua a postare piano piano si cresce piano piano si cresce facendo soprattutto scattando tanti scatti tante selezioni di quelle che sono i migliori non vi accontentate e andiamo avanti gianni gracchi 35 mm un duecentesimo iso 100 f4 100 iso scusate f4 i miei cani stalkerizzati però mi piace un po l'effetto che fa il rosso col nero dietro mi ricorda un po scusate la serie degli anni 80 twin peaks no c'è questo questi velluti sul nero anche un po kubrick in certi casi come colori associati nero rosso poi ci sono i cani uno ti guardano e uno e uno no è un bel ritratto dei cani dai interessante sì sulla luce mi piace la composizione cioè la luce puoi lavorare meglio è un po cruda lavorato con una cosa un po diversa sulla luce puoi migliorare molto secondo me questo l'abbiamo visto salve scrive antonio contento di far parte di questo gruppo benvenuto antonio ciao benvenuto scrive andrea puoi fare qualche puoi fare anche tu un'offerta libera minimo 25 euro a claudio braccini scherzo benvenuto si ragazzi mandatemi soldi a volontà assolutamente così ma arricchisco allora i giochi dei grandi no a che levra scrive giochi dei grandi aggrappato a una corda come in una scalata iso 200 1 2 2 di aframma e un quattromillesimo di secondo quindi era una giornata luminosa però stranamente non mi dà la percezione di essere luminosa perché probabilmente ragazzo sotto un albero però c'è questo punto di forte di luce la foto risente purtroppo della compressione di facebook perché sia la percezione che qui non ci sia il fuoco ma credo che nella foto ci fosse e quindi vabbè è un gesto è un gesto che racconta racconta prova a raccontare qualcosa ma secondo me non ci riesce a fondo devo dire mentre questo scatto di teresa che più o meno è in linea con quell'altro come concetto allora la prima cosa teresa che vedo è questa firmaccia qua sopra ma non perché sia voluta la firma ma perché proprio la foto in sé è molto interessante ma con questa firma messa lì che poi tra l'altro non è neanche un angolo messa in un punto che dove vola all'interno dell'immagine secondo me a mio avviso sbagliatissima però scrive teresa salve a tutti mi presento mi chiamo teresa mi definisco un appassionata di fotografia perché un sacco di presentazione stavolta perché non amo definirmi fotografo personalmente la fotografia è una sorta di terapia mi aiuta nel superare i miei momenti difficili ma che soprattutto mi aiuta a tirare fuori tutto quello che non riesco a dire con la voce la mia voce è la foto bellissimo la foto veramente può essere una terapia se hai necessità di trovare un equilibrio personale fotografare è assolutamente una strada giusta soprattutto nei momenti difficili della vita poter avere questo sfogo non è da tutti cioè dobbiamo essere un po felici di questo ed è interessante l'approccio per premetto che già sicuramente faccio degli errori ma amo riconoscerli per migliorarmi amo la foto che raccontano i ritratti ed amo la foto artistica solitamente durante i miei servizi fotografici se scelgo un tema un tema che attualmente magari mi coinvolge mi ha coinvolto e ne costruisco tutto amo creare dei video di backstage che diano la possibilità di vedere come viene costruito il lavoro e come vivo quell'emozione grazie per a me mi raccontato buona luce a tutti teresa dice che si definisce un appassionato fotografia perché non amo definire una fotografa però devo dire che ha già già si capisce che che è una che sa quello che vuole fa vuole dire attraverso le immagini un bel bianco e nero proprio proprio andare a dire mi sembra che qua la sovraesposizione sulle dita sia un po eccessiva e rischia di nonostante mi piaccia che ci siano le alte luci in questo punto però mi sembra che sia si siano bruciate un po' però ci sta bene in questo contesto non è male mi piace teresa scrive ciao sono le grazie vediamo i commenti vediamo i commenti che è successo si è aperto qualcosa allora bellissima mi piace un casino scrive samuele o mamma mia che ho schiacciato ok bellissima piace un casino trasmette qualcosa il bianco e nero lo ha gestito bene l'unica cosa che secondo me rovina il tutela firma sopra la mano si siamo d'accordo teresa scrive ciao samuele grazie ma anche la versione senza firma perché effettivamente disturba ne ho una versione anche stampata su tela vedete che bella questa stampa tra l'altro mi sembra che su questa stampa si percepisca meno la sovraesposizione sulle dita probabilmente facebook anche un po di casino tanta roba scrive samuele bello bello vedere la stampata bello grazie teresa laura robotti un'altra presentazione ciao sono laura scatto con lo smartphone ma dopo ma da poco ho comprato una fotocamica la bridge sto frequentando un corso base quindi sono proprio alle prossime armi alle primissime armi scusate appena posso smanetto facendo prove su prove ma per ora nulla di soddisfacente ad ora la street photography luoghi ed oggetti abbandonati a fotografia astratta qualche scatto del mio instagram con smartphone già fotografi sì esatto già hai almeno hai trovato delle cose che ti piace scattare già sai dove vuoi andare questo è interessante poi tutto il resto verrà facendo dei tentativi delle prove andiamo a vedere qualche scatto veloce ragazzino mi piace la sospensione di questo ragazzino nel gioco interessante bello il movimento belli colori chiaramente sono tutte immagini per i santini quadrate qui c'è questo effetto fatto in instagram di fuori fuoco attenzione agli effettoni ai ragazzi perché si riconoscono quindi sono bruttini poi da vedere ve lo dico in generale quando si cerca di migliorare un'immagine di rende la bella quando bella magari non è in partenza e si si spinge a creare delle cose che non esistono buonasera come fotografo come scusate buonasera scrive mauro gemelli come fotografo sono come il mio amico gildo mi accontento di vedere le foto di altri e anche questo può essere un metodo perché vedere le foto degli altri soprattutto saper distinguere di quelli bravi ciao matteo buongiorno e buona domenica ma mi sa che questo forse l'ha già detto buona domenica a tutti vedere le foto degli altri soprattutto di quelli bravi andare alle mostre direttamente dai libri fotografi bravi ti apre tutto un mondo si impara si impara di più salvo posta tre immagini praticamente simili quasi uguali quindi salvo postane una sola è sufficiente massimo scrive quindi cosa avrà voluto dirci l'autore con questa sequenza che significato a porvi scrive massimo è una domanda da fare credo che non ha molto importanza la sequenza per me è molto importante la mia passione dovuto proprio da quel tipo di hobby la montagna i suoi pericoli sui meraviglia la natura mi circonda certamente per fare quello che a lei interessa non me ne può fregare di niente ecco salvo non ti devi incavolare t'ha fatto una domanda sì magari ti avrà un po stuzzicato però è giusto che ti stuzzichi un po ma non assimile a massimo perché in effetti se mi fai vedere delle immagini così va benissimo è assolutamente perché qui siamo apposta qui a vedere gli scatti tutti però mi interessa anche capire cosa mi volevi raccontare io non l'ho colto c'è una salita ma non l'ho colto evidentemente non sei riuscito salvo a trasmetterci quello che ti interessava di questo punto di vista no ci sta massimo si vede ci mancherebbe il contrario per carità ma avrà forse notato lei essendo su di un profilo riservato a fotografi appassionati tale elevato livello artistico qualità delle immagini proposte arte che qui proprio non vedo non me ne voglia ma non vedo né tecnica né tanto meno arte sono bananissime immagini peraltro bruttine che non dicono nulla ma proprio nulla ecco il livello perché della mia domanda non sono stato aggressivo o maleducato non lo sono per natura mi chiedo e chiedo all'amministratore che che ci azzecca certo del fatto che a lei non frega nulla le auguro una buona serata naturalmente un'ottima vita allora qui secondo me c'è un errore da entrambi i lati c'è un errore di salvo nell'offendersi di fronte a una domanda che anzi stimolava ritengo che stimolasse la tua la possibilità di porti dei dubbi che poi questi dubbi ti faranno migliorare nei prossimi scatti probabilmente lo faranno ne sono convinto poi c'è l'errore di massimo che tu kur dice che sono dei bruttissimi scatti sono fanno schifo eccetera quello che dico sempre anche se lo pensate veramente e ci sta di pensare che uno scatto faccia schifo quello di un altro però astenetevi ne lo vedete io non lo faccio mai non dico mai questo scatto fa schifo alle volte devo dire la verità io lo penso che che uno scatto sia brutto orrendo fuori contesto però non lo dico per un semplice motivo perché ritengo che soprattutto perché mi ricordo quando ero all'inizio mi ricordo quando iniziato scattava in pellicola ritenevo che fossero interessantissimi degli scatti veramente che fortuna non non ce l'ho neanche più davanti ma erano veramente completamente sbagliati complemente fuori luogo quindi cerco di fare un po il passo indietro di capire come una persona che sta iniziando si potrebbe di fronte a un la tua foto fa schifo no non è corretto ma anche se lo pensi perché non è costruttivo è costruttivo piuttosto che dire all'inizio massimo secondo me è quello che penso è invece dire quindi cosa avrei voluto dirci l'autore con questa sequenza la domanda è giusta assolutamente potevi magari entrare un po più nel dettaglio nello spiegare il perché secondo te questa immagine non ha nessun non è stimolante per te e non e non è artistica e non è bella e non è eccetera eccetera questo è quello che penso è la mia opinione lo faccio sembrerà strano non c'è chi dice no le cose mi hanno dette in faccia se una foto fa schifo va detto ma non ci possiamo sempre porre sul piedistallo per essendo sicuri che quello che diciamo è la verità assoluta purtroppo non è così alle volte si può anche sbagliare no quindi tarpare le ali a un giovane fotografo che magari ora sbaglia ma domani sarà un grande fotografo non mi sembra cosa giusta da fare no marco bar giga scrive buongiorno a tutti grazie per avermi accettato nel vostro gruppo fotografo principalmente persone nella maggior parte dei casi con un 50 mm scatto con corpi ottiche canon buona luce a tutti ciao marco ciao carissimo questo è uno scatto di un backstage durante appunto prima di un matrimonio credo una sposa dovrebbe essere ebbene benvenuto buongiorno andrea scrive buongiorno grazie per la città la mia adesione amo la fotografia da parecchi anni questa è una foto di un mio recente viaggio in polonia qui c'è c'è la c'è la ricerca di creare attraverso l'immagine un racconto si capisce qui sei a auschwitz credo sì penso di sì c'è una rosa c'è però non c'è non c'è si rischia adesso un po banali no quindi andrea questo racconto funziona poco l'immagine un po storta la foto non è un granché non passa queste motività che volevi passare attraverso lo scatto massimiliano falso scrive marina in black and white foto maimi ma i facebook page falso massimiliano la mia fotografia in insta falso massimiliano se volete andare a vedere le foto di fazzo le andate a vedere su instagram questo è uno scatto di questa modella ribaltata in bianco e nero molto tatuata con un allora un buon bianco e nero con secondo me un volto molto bianco rispetto al resto è una scelta una scelta di massimiliano non non amo troppo gli scatti dove faccio un po confusione a capire l'aspetto della modella così al contrario percepisco male lineamenti mi confonde un po personalmente e non però comunque è un buon è un buon lavoro sinceramente delle volte soprattutto cioè io per esempio quando si parla di ritratte di foto di moda di cose che faccio di lavoro no faccio mente fatica a consigliarvi perché se una cosa non la farei completamente non rientra neanche nel mio spettro di possibilità e faccio veramente fatica a darvi dei consigli più che di altre cose perché effettivamente io questo scatto fatto così non lo farei per svariati motivi e non so spiegarti come l'avrei fatto se l'avessi fatto non so se è chiaro quello quello che sto dicendo vediamo un po nei commenti cosa c'è scritto molto bella complimenti alla domanda la schiarita sul viso l'hai fatta in posto oppure con un ombrellino a me sembra un ombrellino ma sembra a me sembra un ombrellino forse un po chiuso per illuminare meno il resto in posto solo convertito l'immagine in bianche nero si ho usato un ombrello non era chiuso ma direzionale per chiare questo effetto altezza viso grazie per la risposta ma figurati ci mancherebbe si danno un po di consigli tecnici interessanti che che aiutano a migliorare fabio scrive sono d'accordo fabio baldini alcuni membri sono troppo aggressivi e saccenti nelle disposte questo è esattamente quello che succede in qualsiasi gruppo facebook e in qualsiasi spazio su facebook le persone quando sono davanti alla tastiera fanno e scrivono cose che non farebbero mai se fossero di fronte alla persona perché avrebbero un po di pensieri peserebbe magari essere troppo aggressivi di fronte purtroppo essere non essere di fronte crea queste queste cose qua io dico sempre cercate comunque di rapportarvi con gli altri in modo educato e comprensivo perché se non non ha senso che stiamo qua insieme cioè alla fine una comunità dove ci si scambiano idee opinioni ed è importante che sia così tiziano scrive buongiorno a tutte grazie per avermi accettato mercoledì parto per per 15 giorni in giappone a che spettacolo giappone visto che ha messo acqua e catinelle consigli per proteggere una macchina mentre scatto grazie attenzione che qui abbiamo anche un commento di ugo grandissimo ugo e quindi andiamo a leggerci commenti che ugo addirittura non solo ci ha regalato due ore fantastiche sul fotogiornalismo ma è pure nel gruppo e ogni tanto da anche qualche consiglio questa è una cosa spettacolare arau scrive ci sono delle protezioni in amazon massimo perrucca perrucca scrive se una macchina tropicalizzata non sarebbe necessario tu sai cosa possiedi quindi possiede una di 7500 quindi non credo stefano scrive la di la di 7500 è tropicalizzata il problema sono gli obiettivi che di solito non lo sono ugo scrive è sufficiente un banale sacchetto di plastica anche quello usato per la spazzatura hai ragione ugo l'ho fatto in passato anch'io una volta mi sono ritrovato a scattare un un foto un parale un campione paralimpico di nuoto praticamente lo volevo prendere mentre faceva il delfino e quindi lo prendeva nei momenti in cui faceva il delfino quindi le braccia aperte scendeva ero con un gran angolo 24 ero con un 24 e scattavo dal basso proprio vicino quindi ogni volta che chiudeva le braccia entrava in acqua ma proprio mi arrivava una secchiata l'acqua addosso quindi io che avevo fatto avevo preso ho fatto un buco in un sacchetto normalissimo avevo messo del fil di ferro intorno a questo buco l'ho applicato all'ottica e il sacchetto era piegato sulla macchina e sulla mia testa parzialmente sulla mia testa infatti io mi sono bagnato completamente però la macchina era protetta c'era solo il vetro dell'ottica che usciva fuori quindi si ho letto in diversi posti ma non ho capito come usarlo e ugo pannella fa un foro per lasciarvi la lente dell'obiettivo il resto è abilità manuale perfetto grande ugo massimilano lunardo sara allora vediamo questo scatto di sara che è una bella ragazza lo scatto in sé però un po strano perché perché il look è un po non ho studiato da uno stylist diciamo così per essere buoni dopodiché la ragazza è in una posizione massimiliano dove per esempio questa gamba qua sembra quasi che il ginocchio vada indietro spesso succede anche molte modelle hanno chiamiamola non problematica questa postura dove il ginocchio tende andare indietro quindi tu da fotografo dove di dirgli ok spingi un po il ginocchio avanti per correggere questo arco che vedi qua che non è molto estetico in questo scatto perché ce l'hai proprio frontale di fronte a te la posizione della donna con questa manina così e con questa mano cosa è un po da catalogo anni 80 non so come dire un po impostata un po finta no cerca massimiliano quando scatti una donna una modella eccetera di far sì che abbia delle posture naturali quindi cerca di prima magari di capire se lei stessa ti regala qualcosa in questo senso se non riesci proprio a tenere nulla allora sarai tu che dovrai piano piano cercare di muoverla in modo tale che risulti naturale e che funzioni bene queste sono che in consigli che do perché è un po il mio settore quindi ritengo di poter dare dei consigli utili in questo senso un macro di federico cardaio che probabilmente non è più nel gruppo non lo so perché si vede così posta un 70 300 tamron con un ape mi non lo commento perché tanto se ma federico non c'è più non so non ci sarà più non non gli sarà utile quello che dico ninuzzo materia i bello mi mancate gruppo non vedo l'ora di poter tornare a portare qualcosa perché ninuzzo non so il computer è andato essendo disoccupato chissà quando potrò riacquistarlo ninuzzo non ti preoccupare per ora vedrai che troverai lavoro sperano un momento difficile per tutti molto complesso quindi dice simone non riesce a fare nulla con il cellulare almeno anche se non top non metti in pausa la tua passione giusto sì però non so passare le foto dalla reflex al celle dice no non hai il wifi della tua macchina sì è vero e che cacchio non ci avevo pensato dai e ha visto che hai trovato una soluzione grazie grazie a simone benissimo ragazzi bellissimo gianni gracci ci posta questo scatto di questo fiore ancora chiuso di questa margherita che si sta per aprire con un bel fondo colorato delle belle cromie gianni bravo belle cromie un bello scatto semplice niente di sconvolgente però esteticamente apprezzabile esteticamente apprezzabile giudy ti posta questo scatto questi due scatti bianco e nero un uomo che la guarda che è successo si è aperto un'altra cosa un uomo che la guarda tipo batman lui è batman un po invecchiato però devo dire che che ancora il fisico regge niente cosa dire di questi scatti se non che facebook l'ha un po spappolate distrutti giudy purtroppo sono un po sfocati un po mossi non si capisce se facebook che ha distrutto un po l'immagine o se già di per sé avevano qualche problematica ci sono delle sovraesposizioni quindi attenzione alle sovraesposizioni che c'è tanto contrasto probabilmente creato in post produzione i neri sono persi completamente qua sul corpo i bianchi sono bruciati quindi attenzione judith a gestire bene le curve non sovraesporre troppo non sottesporre troppo in post produzione non andare a creare il contrasto andando a perdere troppe informazioni lasciano informazioni ma questo viene successivamente prima cerca di ottenere delle immagini ancora più impattanti comunque grazie di averci postato i tuoi scatti davide rusconi posta marzo 2019 marzal ham alam angolo fiorito scatto realizzato con uno smartphone ciao fotografi e pubblica il suo sito questo scatto realizzato questo smartphone racconta un po questo spazio fiorito eccetera eccetera al sole scatto di davide rusconi bene concludiamo qua diciamo aspetta voglio vedere questi due scatti però prima petruzzi giorgia un tramonto e alcune silhouette di alberi e di colline come in un quadro di van gogh di il tramonto scatto eseguito con reflex di con attenzione a paragonarci a van gogh perché l è complessa la cosa è comunque brava giorgia bel tramonto è solo un tramonto quindi va all'interno del contenitore dei milioni di tramonti che ho già visto e che quindi non raccontano niente di più al nostro magico mondo della fotografia abbiamo già visto però ci sono dei colori interessanti ma al di là di quello che non resta nient'altro massimo fizzare fa uno sforzo ulteriore cerca di raccontarci una storia vita da strada buongiorno a tutti per questo scatto usato la mia cano eos 4000 di con montato un 18 55 va a fare questo ragazzo che vive per strada con questo cane con la sua birretta a fianco ci racconta la storia di questo ragazzo lui è uno scatto accordato nel senso che ha chiesto probabilmente permesso lui gliel'ha dato quindi c'è il cane che è presente quello che mi manca un po di questo scatto nonostante la scelta di raccontare questa storia sia giusta interessante mi manca che secondo me massimo va bene la scelta grande angolare però non sei entrato dentro allo scatto come avrei voluto vorrei respirare un po questo quest'uomo qua vorrei capire meglio chi è così lo vedo un po lontano da me forse sarei entrata ancora più dentro vorrei che fosse più presente all'interno del quadro questa è la sensazione che mi dà mi sento ancora un pochino distante non tante la scelta del gran angolare che sia la scelta forse giusta perché significa che tu ti poni nello stesso contesto della persona tipo insieme a lui e vuoi essere nel suo spazio però sei comunque ancora un po distante come ancora se non avessi lo so che volevi tenere dentro il cane volevi tenere dentro il contesto e tutto però questo è un bel volto cioè è un volto interessante quindi averlo piccolo nell'immagine è un peccato perché ti perdi secondo me buona parte della della bellezza dello scatto massimo bruno racca ciao bruno scrive buongiorno a tutti in ritardo pazzesco me la guarderà indifferita va benissimo guarda bruno mi spiace che però vabbè capita no ragazzi vi ci salutiamo qua perché ho superato abbondantemente l'ora e venti sono stato un po prolisso spero che questi queste rubriche vi possano in qualche modo piacere interessare un modo per stare insieme parlare di fotografie insieme come vi dicevo vi anticipavo prima per chi non fosse ancora in linea sto pensando insieme alla alan rail wilmett siccome c'è tanta richiesta di parlare anche un po di tecnica anche se sapete che la tecnica non è il focus del gruppo però spesso ci sono domande di persone perse nel mondo della tecnica e quindi alan è la persona giusta per fare questo e apriremo una rubrica specifica settimanale dove andremo ora non ancora perché dobbiamo un attimo tirare un po le fila c'è tanta roba da fare e poi nel frattempo dobbiamo anche lavorare però si si inizierà con qualcosa di a parlare un po anche di tecnica e quindi se avete poi domani se avrete poi domande specifiche le farete direttamente alan e settimanalmente andremo a affrontare vari punti insieme vi saluto vi ringrazio di essere stati qua con me vi ricordo che per chi volesse rivedere i video che faccio quotidianamente c'è il mio canale youtube se vi iscrivete mi fate un regalone questo canale youtube qua claudio braccini lo trovate facilmente e quindi questo non c'entra nulla vi saluto con la sigla e vi do appuntamento a quando volete voi ciao carissimi non mi parte mai alla prima credibile devo ancora migliorarmi la firma mi piace grossa su tutte le foto e fa schifo sì certo e mi rubano le foto oh la fai finita chi ti irredidesse picasso cala cala me lo dai un motivo palido per cui non dovrei mettere la firma fa schifo non me ne frega niente ho letto un manuale dove c'era scritto che la firma si mette perché se no te le rubano il mio g non la mette gli hanno rubato due foto solo perché lo fai di lavoro danni ti dovrei ascoltare ce la mette bella grande no no no